La nostra azienda è ben lieta di partecipare al progetto Charm. Siamo a Vizzini, nel paese natale del Verga. Sono Francesco More, responsabile della Consiglia. Quindi è 30 anni che siamo sul settore della gastronomia. Noi ci siamo imbattuti in questa avventura già fin dall'epoca quando ancora in Sicilia non si percepiva cos'era l'agriturismo. Siamo a Vizzini, nel paese della ricotta, dei formaggi. Le nostre specialità culinarie sono proprio rinomate nel posto. Chi viene da fuori è rigorosamente da provare questa ricotta vizzinese. Una ricotta che farà bene alla salute. Dopo 40 minuti c'è prima la cagliata. La cagliata è un solo budino. C'è la cagliata si ronda, però almeno ci sono chicchi di mais e parte liquida. I chicchi di mais scendono tutti giù per la parte solita. Lei è quello della buona. Buongiorno, io sono Terlato Antonio, vivo a Vizzini. Ho iniziato a fare il panettiere del 1966 e mi sono trovato sempre bene, fino al 2020 sono stato sempre gioioso del mio lavoro. Nel tratto della strada cinque anni fa ho incontrato questo campanile che è un petto con vento e mi sono trovato bene. E c'è un alloggio, un piccolo albergo, diciamo, però bellissimo. Sono contento, sono felice. Ciao a tutti, io sono Lucia More e sono il direttore commerciale della POMAP, un'azienda che è specializzata nella produzione di pomodoro che dall'anno scorso coltiviamo noi, quindi abbiamo integrato a monte e possiamo controllare il prodotto dalla pianta fino al consumatore finale, fino alla vaschetta. Si tratta di un prodotto fresco, quindi il pomodoro viene disidratato, ma mantiene tutte le sue proprietà organolettiche, quindi preserviamo il gusto, la polpa e il colore. Cercando di dare il massimo e il meglio di noi stessi.